e Eugenio Scalfari dice che Matteo Salvini vuole la dittatura io la notizia l'ho ora appresa perché Eugenio Scalfari ha parlato in una nota e trasmissione televisiva e io questa notizia come al solito ve la metto come ligno riassunto di questo video Eugenio Scalfari è un anziano che gli anni si riporta molto bene è stato fondatore del quotidiano romano La Repubblica poi attualmente è in pensione è semplicemente un editorialista però ha scritto anche tanti libri io ricordo che ho parlato di uno dei primi libri o del primo libro pubblicato da Eugenio Scalfari quando Eugenio Scalfari andò in pensione mi pare che quel libro di Eugenio Scalfari sia intitolato L'uomo che non credeva in Dio Eugenio Scalfari dice che Matteo Salvini vuole la dittatura si capisce subito che Eugenio Scalfari non segue la web tv di Serafino Massoni è Eugenio Scalfari e lei non segue la mia web tv la web tv di Serafino Massoni che conta ormai circa 10 milioni di visualizzazioni oltre 10.000 video e circa 300.000 abbonati no, circa 13.000 abbonati capito Eugenio Scalfari? se lei e Eugenio Scalfari seguisse la mia web tv cioè la web tv di Serafino Massoni che è questo qua, va bene? lei non direbbe che Matteo Salvini vuole la dittatura perché che cosa vuol dire volere la dittatura? vuol dire diventare nazifascista nazifascista allearsi con i partiti nazifascisti oppure fare una bella marcia su Roma oppure fare come ha fatto Adolf Hitler in Germania prendere il potere prendere il potere, va bene? anche con un po' di violenza però c'è un fatto che i nazifascisti hanno fatto la seconda guerra mondiale e l'hanno persa la guerra i nazifascisti per cui Matteo Salvini ma io l'ho già detto Eugenio Scalfari Matteo Salvini è una persona intelligente non si allea con i perdenti non vuole una dittatura Matteo Salvini perché Matteo Salvini sa benissimo che poi le dittature vengono rovesciate fanno una brutta fine le dittature è intelligente è intelligente Matteo Salvini non la vuole la dittatura che sia chiaro vuole la democrazia non si metterà mai Matteo Salvini Eugenio Scalfari non si metterà mai con i nazifascisti ormai i nazifascisti non esistono più e poi i nazifascisti hanno perso la seconda guerra mondiale Eugenio Scalfari e perché i nazifascisti hanno perso la seconda guerra mondiale? ma perché si sono messi contro gli ebrei e il loro grande erbaglio è stato questo di mettersi contro gli ebrei ma non ci si mette contro gli ebrei nessuno si può mettere contro gli ebrei Eugenio Scalfari lei forse non lo sa gli ebrei sono soltanto 15 o 16 milioni in tutto il pianeta su 7 miliardi di abitanti di questi 15-16 milioni la metà sta nello Stato di Israele con Benjamin Netanyahu e l'altra metà è sparpagliata in tutto il mondo beh, questi 16-17 milioni di ebrei comandano lo comandano il mondo sono loro i padroni del mondo c'è il mio video c'è il mio video Eugenio Scalfari intitolato Gli Illuminati vada a vedere il mio video Eugenio Scalfari il mio video intitolato Gli Illuminati e così saprà chi sono davvero gli illuminati capito? non ci si mette contro gli illuminati non ci si mette contro i padroni del mondo anche se sono soltanto 16-17 milioni su 7 miliardi di abitanti Matteo Salvini queste cose non si sa le sa queste cose Matteo Salvini Matteo Salvini lo sa che brutta fine che fanno le dittature Eugenio Scalfari andiamo, su chiaro? le dittature hanno fatto una brutta fine tutte le dittature fanno una brutta fine è tanto chiaro perché le dittature si mettono contro gli ebrei e non ci si mette contro gli ebrei lo dovrebbe sapere lei e Eugenio Scalfari che ha una venerabilità ma se anche non lo sa glielo dico io Serafino Massoni che sono questo qua Matteo Salvini è un giovane intelligente intelligente non ci si mette con i nazifascisti non vuole fare una dittatura Matteo Salvini perché Matteo Salvini lo sa che le dittature fanno tutte una brutta fine il popolo sovrano si ribella nei confronti dei dittatori capito? Eugenio Scalfari lasci stare Eugenio Scalfari dialetta Serafino Massoni e Matteo Salvini è una persona intelligente non ci pensa lontanamente a fondare una dittatura capito? perché lo sa che le dittature fanno tutte una brutta fine basta vedere che fine ha fatto la dittatura nazifascista e il povero Adolf Hitler e il povero Benito Mussolini basta vedere che brutta fine che hanno fatto e perché hanno fatto questa brutta fine è perché si sono messi conto gli ebrei che sono gli illuminati gli ebrei vado a vedere il mio video intitolato Gli Illuminati capito? prima di morire Eugenio Scalfari cerchi di venire ad abbeverarsi qua alla web tv di Serafino Massoni capito? capito Eugenio Scalfari con tanto rispetto a lei Eugenio Scalfari a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni Serafino Massoni